Come è approvato oggi in prima commissione una variazione di bilancio molto importante perché andiamo a riassegnare delle importanti risorse ad alcuni capitoli che erano necessari prima della chiusura del Consiglio di questi ultimi mesi. Fra questi c'è un'importante aggiunta su un capitolo che va a finanziare i comuni che ospitano il centro di mungimento delle acque minerali. Diamo un contributo per quanto riguarda l'uso del loro territorio. Ci sono partite che andavano risolte con contenziosi che andavano a lungo da parecchio tempo e quindi con questa variazione di bilancio andiamo a chiudere queste partite. Altro importante passaggio è la presentazione del rendiconto del 2016, cioè la chiusura dei conti del bilancio 2016. Anche in questo caso siamo in una posizione molto positiva perché la giunta è riuscita a recuperare da questo punto di vista. Abbiamo un disavanzo inferiore rispetto agli anni precedenti. Questo ci fa ben sperare perché con i conti in regola possiamo anche chiedere a batter cassa ai fondi nazionali con maggior forza. Siamo rimasti mesi a discutere sull'applicazione dell'addizionale IRPEF e quindi di nuove tasse per il popolo veneto e a un certo momento non ci sono più le ragioni per applicare questa tassazione. È stata trovata un'altra soluzione. Ci domandiamo come mai, non abbiamo fino in fondo colto, come mai ci sia questo positivo, poi ritorno alla non tassazione. Ma che accordi sono stati raggiunti con chi sta costruendo la Pede Montana? Non si poteva pensarsi prima anche perché noi avevamo proposto proprio l'emendamento che adesso sta diventando legge con la proposta di Zaia. Sicuramente un dietro front che ha dello spettacolare, mancata però la spettacolarizzazione di Zaia che magari viene in consiglio e ci dice come mai ha cambiato idea. Certo che nella Pede Montana c'è un altro accordo con la terza convenzione con chi sta costruendo la Pede Montana e che dovrebbe anche gestirlo. Per cui cambiano i rapporti rischi di impresa, per cui il pedaggio verrà introvitato dalla regione che assicurerà a chi ha costruito e che gestirà un canone annuo molto significativo per 39 anni che consentirà a chi ha costruito di incassare 12 miliardi. E' questa la grande novità del rapporto con chi sta costruendo la Pede Montana e oltre a questo c'è anche questa elargizione, questo contributo ulteriore di 300 milioni che fanno sommare il contributo statale e oltre regionale a 914 milioni. E' questo che ci preoccupa molto perché abbiamo votato negativamente, parere negativo alla variazione del bilancio. Grazie a tutti.